Santa Rosalia, in Sicilia vi è un intensissimo culto per tre giovani sante vergini, Lucia di Siracusa, Agata patrona di Catania e Rosalia patrona di Palermo. Il loro culto si è diffuso in tutti i paesi in cui sono arrivate le schiere di emigrati siciliani che hanno portato con loro il ricordo struggente della natia isola e delle loro tradizioni unitamente al culto sincero e profondo per le tre sante siciliane, ma se Santa Lucia di Siracusa e Sant'Agata di Catania furono martirizzate durante le persecuzioni contro i primi cristiani, Santa Rosalia è una vergine non martire vissuta molti secoli dopo e divenuta patrona di Palermo con culto ufficiale esteso a tutta la Sicilia. Ciò nonostante la Santuzza, come affettuosamente viene chiamata dai palermitani, si affermò come una delle sante più conosciute e venerate nella cristianità siciliana e in particolare in quella palermitana. Ancora oggi in qualsiasi parte del mondo si incontrino i palermitani, si scambiano il saluto viva Palermo e Santa Rosalia. Santa Rosalia nacque a Palermo nel XII secolo e secondo antichi libri liturgici morì il 4 settembre del 1160 a 35 anni. La leggenda dice che era figlia del duca Sinibaldo, feudatario, signore di Quisquinia e delle Rose, località ubicate fra Bivona e Frizi nel palermitano e di Maria Guiscarda, cugina del re normanno Ruggero II. Giovanissima fu chiamata nel palazzo dei Normanni alla corte della regina Margherita, moglie di Guglielmo I di Sicilia. La sua bellezza attirava l'ammirazione dei nobili cavalieri. Il più assiduo pretendente, sempre secondo la tradizione popolare, si vuole che fosse Baldovino, futuro re di Gerusalemme. Rosalia visse in quel felice periodo di rinnovamento cristiano cattolico che i re normanni ristabilirono in Sicilia dopo aver scacciato gli arabi che se ne erano impadroniti dall'827 al 1072, favorendo il diffondersi di monasteri basiliani nella Sicilia orientale e Benedettini in quella occidentale, apprezzando inoltre l'opera religiosa e monastica del certosino S. Brunone e del cistercense San Bernardo di Chiaravalle. In questa atmosfera di fervore e rinnovamento religioso, si inserì la vocazione eremitica della giovane nobile Rosalia. Bisogna dire che in quel tempo l'eremitismo era fiorente in quei secoli, sia nel campo maschile sia in quello femminile. Seguendo l'esempio degli anacoreti, che lasciati gli agi e la vita attiva si ritiravano in una grotta o in una cella, di solito nei dintorni di una chiesa o di un convento, così da poter partecipare alle funzioni liturgiche e avere nel contempo un'assistenza religiosa dai vicini monaci. Così Rosalia si ritirò in una grotta del feudo paterno della Quischina, a circa 90 chilometri da Palermo, sui Monti Sicani, in provincia di Agrigento, in territorio di Santo Stefano Quischina, vicino a un convento di monaci basiliani. Da lì la giovane eremita, dopo un periodo di penitenza non definito, si trasferì in una grotta sul Monte Pellegrino, stupendo promontorio palermitano, accanto ad una preesistente chiesetta bizantina, in una cella costruita sopra il pozzo tuttora esistente. Anche qui nei dintorni i benedettini avevano un convento e poterono seguire ed essere testimoni della vita eremitica e contemplativa di Rosalia, che visse in preghiera, solitudine e mortificazioni. Molti palermitani salivano il monte a tratti dalla sua fama di santità. Secondo la tradizione morì il 4 settembre, che si presume, dell'anno 1160. In seguito fu oggetto di culto con l'edificazione di chiese a lei dedicate in varie zone siciliane, oltre la cappella già sul Monte Pellegrino e riprodotte in immagine nella cattedrale di Palermo e di Monreale. Una chiesa sorse lontano, a rivello potenza, nella diocesi di Policastro. Le reliquie deposte nell'artistica e massiccia urna d'argento sono conservate nel Duomo di Palermo. Preghiera a Santa Rosalia, o cara Verginella. Rosalia, che con la vostra speciale intercessione liberaste tante volte la nostra patria dai tremendi flagelli dell'ira divina, dè, intercedete oggi per noi presso il Dio delle misericordie, affinché non voglia riguardare alla enormità dei nostri peccati per punirci, ma ci accordi invece tempo alla penitenza. Le vostre reliquie che sono in mezzo a noi ci assicurino della vostra protezione e ci ottengano da Dio la grazia di glorificarlo insieme con voi nel cielo per tutti i secoli dei secoli. Così sia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.